C'è un pezzo che a me, ma credo a molti, ha fatto innamorare la lirica, come parla la divina Maria Caldas, è una delle aree che sono più conoscente della lirica e avevamo bisogno, perché era una mia richiesta di ascoltarla questa sera, però avevamo bisogno, essendo un'orchestra d'archi, di un flauto. Penso un'orchestra, penso un'orchestra, a fretta. Penso un'orchestra, penso un'orchestra, a fretta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.